con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dal santuario della santa casa di loreto preghiamo l'angelus e il santo rosario in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria regina della pace per la pace nel mondo gesù cristo principe della pace illumini reggitori dei popoli affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere da garantire il nome del padre del figlio e dello spirito santo l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e della concepi concepi per opera dello spirito santo eccomi sono la serva del signore si compia in me la tua parola e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo misteri del dolore nel primo mistero l'agonia di gesù nell'orto degli olivi pater noster qui e sinceri santifici eturnomen tu adveniat regnum tu un fiat voluntas tua sicuti in cielo et in terra pane e nostro un quotidianum da nobis odie ed imite nobis debita nostra sicute nostri mitimus debitoribus nostris e nei nostri in lucas in tentazione siete libera nostra malo ame maria regina della pace prega per noi prega per noi ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus santa maria matere dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre ame ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus santa maria matere dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre ame ave maria grazia plena domino stecum benedicta tui murieribus ete benedictus fruttus ventris tui jesus santa maria matere dei ora pro nobis peccatoribus nuncetino mortis nostre ame gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli ame l'ho dato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe maria nel secondo mistero la flagellazione di gesù padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male ame maria regina della pace prega per noi prega per noi ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli l'ho dato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe maria nel terzo mistero l'incoronazione di spine di gesù padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra danci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male ame maria reggina della pace prega per noi prega per noi in tamil santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame ame maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame 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 maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame 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 am 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 Santa Maria amate di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'uomo della nostra morata. Santa Maria amate di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero, la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morata. Amen. Io vi saluto Maria, pleine di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Voi sei benveni in tutte le donne, e Gesù, il fruio dei vostri entrati, è benveni. Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Maria della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Maria della Pace, prega per noi, 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 prega per Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Signore Pietro, 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 Sign Madre purissima, Madre sempre Vergine, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza. Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergine, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Prega per noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ora recitiamo insieme la preghiera di Papa Francesco per la pace. La trovate a pagina 12. Pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama a l'ora della salvezza. Madre, apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu dimuora dello Spirito Santo, ispiragli di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i Tuoi figli sedotti dal male, ascecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che rivedi la tenerezza del Signore, rendici testimone della Sua consolazione. Madre, Tu regina della pace, riversa nei cuori l'amonia di Dio. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e govername, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie per aver guardato il nostro canale.